bentornati su mountain lover 87 oggi siamo tornati nuovamente al pian del re che vedete alle mie spalle e partiamo per un'escursione al monte meidassa cima alta poco più di 3.100 metri partiamo dal pian del re anziché pian della regina per chi non lo sapesse c'è da pagare 10 euro di parcheggio ma oggi abbiamo deciso di partire un po più alti e si prende il sentiero che conduce verso il colle delle traversette dopodiché prima del colle e del buco diviso si devia a destra verso il monte meidassa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il sentiero si impenna un po' e si dirige verso la casermetta che è sottostante il buco diviso e da qui dalla casermetta si presenta poi un bivio a sinistra si va verso il colle delle traversette e il buco diviso mentre noi per il monte meidassa prendiamo a destra grazie a tutti 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 grazie a tutti